e attivando l'audio guarda quant'è magari se abbiamo culo si dimentica che la nambu è buggiata e si fa 10 kill nel primo side stai beccando 500 punti ah! l'ha shotato hai type 2 ah 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 discord shadow è crashato mi sa perchè stava entrando prima in partita però abbiamo preso la prossima anche squadra oh no 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 sì sì quanto c'ho? 23 anche un altro si è messo la nambu questi vogliono fare così i bastardi per far scendere così no stiamo per perdere l'obiettivo e no 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 siamo a metà siamo a metà ma stiamo perdendo non di sperare al presto avrai compagnia l'obiettivo eibone è andato perduto però no 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 ma questi che cazzo di distraccianti Comunque anche allora continua a mancare sempre uno C'è abbiamo uno dietro, ma si chiama Wally ti hai dato a destra o alle basci? un bombe dei basci un bombe dei basci un altro m&m già fa bombe dei basci coming l'obiettivo 3 è andata perduto è quello di Artic ho le personalità è scritto per il mio sì sì Artic te l'ha mandata dai ragazzi il nemico controlla tutti gli obiettivi un po' di fiume è entrato noi ci siamo presi l'obiettivo американ perciò dovremmo cercare di farci un obiettivo sì e dai tappo tappo cc ciao 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 bellissima a 1 carità 8.000 nonostante non ci diamo nonostante 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 se lo so no Esisti! Ora arrivano rinforzi! E tu! Ah! Ah, un uomo ti puoi usare! Sottosicolo non lo mazzano il panze ma... è un team bender Il Thompson non lo si può usare No, loro stanno usando anche a caso Un'altra parte Echmi il X! Nono? Nono, nono Salute! bello e nino ricordati di ricontrollare il medico di controllare la classe del medico perché te la cambia da fazione a fazione a volte da cap a se da ci si diverte stasera top qui ha altro che trigo turbante qua usci del mare siamo su alfa comunque sì sì io ci vado a star wars top il turbante mi agisca da c'è già uno da varco c'è una sinistra cazzo sono due da varco dobbiamo la prima perdita cazzo 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 colon cazzo cazzo cazze Fumogine ragazzi, da te, da dietro ragazzi Da dietro, da dietro Da destra Quanto che sono io C'è uno qua davanti, occhialino Un altro a destra E i volley Sono a terra Aiutatemi Davanti a noi ragazzi Vado fammi rispondi Dovamo Vittato nel fumo C'è uno qui Sanatro Sanatro Si C'è uno qua Stata di enough E' uno Presi due su Bravo Raga Gli do una mano su Bravo C'è uno a destra Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie Ottimo lavoro Abbiamo preso l'obiettivo Baker Aspetta, io sono quello su Bravo Aspetta, ma hanno problema Hanno problema Sì, sì Qui c'è mafo Aspetta, la schieramento Vi avviso che l'obiettivo Charlie E' andato perduto Un altro Sanno po' Eh, avevo zero di vita Ma purtroppo Sì, sì No, no Siamo su Bravo Visto Sono lì Sono davanti Sono due sinistre Aspetta Io lo mando io Io lo mando io Io lo mando io Gli arti 3 secondi Top Ce n'è uno lì Fumo se vuoi Prova a rinascere Bene Ci siamo presi L'obiettivo Ma dai Non mi fa rinascere Sto gioco Sì, sì L'ho visto Ci sono Ci siamo Ci siamo Ok Bene Bene Così Obiettivo Charlie Sì, è una lume Si nasce Sì, anche lì fa Dato 43 Sempre là Sotto là Uno top Bella L'altro è andato in là Sì, mi ha preso Si è sdraiato Mi sa Una l'ho fatta da te Comun Qui da me Qui da me Sì Per pietà Sì Attenzione Stiamo perdendo l'obiettivo Baker Vai Grande I soccorsi stanno arrivando Attenzione L'obiettivo Baker è stato perso Sì, poi continua a campare qua sta funzionando Sotto 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 No Eccoli là Vaffanculo Ho smirato Uno solo Non ho preso Ficcato Vi avviso che abbiamo perso l'obiettivo Charlie Sono a sinistra Uno Forse si può Meglio tornare verso Bravo Sotto Sotto Traut Traut Sotto 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 Vedo Sotto 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 Dove Sotto no no siamo tutti morti sta tornando sta lì sotto eh mi hanno beccato aiuto ce l'è non è dietro ce l'abbiamo venuto davanti vedete sto pushandolo beh ma la spandina su uomo praticamente niente panico presto arriveranno i rinforzi si l'abbiamo venuto davanti sono i due che ti buscano sono i due 2 W ma attenta eh sono andata a destra è V al lì eh fammi rispondi fammi rispondi fammi rispondi fammi rispondi da ora siamo tutti di palazzo ottimo lavoro abbiamo preso l'obiettivo sinistra sinistra concessionario dov'è Nino c'è una adesso rifornimento di proiettivo in 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 raga oh meglio fatto in 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 ok in quinto ok faremo a scatto ci consigli la chiavetta eh in 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 vabbè ok 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 presto presto medico qui ci credo si si una l'ho presa la sempre la davanti l'ho presa l'ho presa l'ho presa un quanti cazzo vabbè è un shot che siamo quasi andiamo bene cazzo 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 no uomo c'è uno sotto che sta a morsi insomma due li ho fatti da dietro da dietro nino cazzo ce ne abbiamo un quarto c'è uno davanti c'è uno davanti è lì io guardo la destra dopo c'è uno davanti peccato che non è l'intera mappa e vai mamma mia vabbè è l'ultimo è l'ultimo c'è uno davanti c'è uno davanti c'è uno davanti c'è uno davanti non è l'ultimo è l'ultimo un po' marina ok Oh, che bello a voi lì. 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 Oh, che bello lì. Oh, che bello lì. vado ad altare si altare organ ok ok ci sono ci siamo ci siamo entra 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 a neutralizzare l'obiettivo Anton è stato perduto da lì teoricamente non mi possono salire se forse se riuscite a aspettare un attimo no 86 qui basso stai dentro stai dentro ho due eh dove è? mi ha shotato non so la gravita dei dub show abbiamo sempre uno sotto bella entrate di prepotenza di prepotenza se la prendete è fatta eh continuiamo a tenere sto double mosca avanza 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 non li facciamo arrivare aspetta aspetta se c'è qualcuno lo senti? non lo vedo però abbiamo il controllo dell'obiettivo Anton adesso gli arrivo da dietro aspetta aspetta sei sicuro che ci sia no? cazzo anche l'altro mi ha fatto 80 section in due no ah niente no no sono rumori di fiamme eh hanno fatto anche me hanno fatto anche me si eh fatti vedete che non rispondono io sono rinato il raga sono rinato sono rinato ok perfetto tutti tutti altri tutti altri come prima come prima a dividerli stiamo anche spassando basta che li tieni impegnati ragazzi noi riusciamo a prendere lì cavo qui da me eh i due uno l'ho preso qui di uno si fa un altro ho preso quello da destra aspetta ieri con la destra da qua l'ho visto qua dietro da in C forse sono qui aspetta aspetta ce l'ho anche qua mamma mia grande grande è sinistra eh colonne centrali quelle colonne entrate in alfa 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 c'è una bandiera c'è una bandiera stanno in tre uomo uno qua sopra uno qua sopra niente c'avevo pure uno dietro a prendere l'obiettivo a prendere a prendere l'obiettivo dentro anche se vi uccidono merda eh questa è andata male occhio occhio lo sento non è neanche sbaglio ci muore ogni tanto eh per me c'è il silenzio di tomba 45 sinistra biblioteca Concessionario, concessionario, il barco aperto concessionario Da destra, quindi, raga Da dietro Appunto, appunto, vai Fa due a sinistra Sì Fa un'altra Preso Ora vi arrivano, vi arrivano, eh, vi arrivano Entriamo io in moscata a fare Ce n'è una ordine Andate, andate alfa No, lo so, lo so Musca, se riesci Davanti a me, davanti a me C'era una, c'è uno, come un periodo, non sei vista 96 Ce l'abbiamo ancora dietro, cazzo Oddio Eh, c'è Ok, fai spawnare quello che è già su alfa Quello che è proprio su alfa, fai spawnare Siamo tutti vivi, però, in realtà, noi Ok, allora, entrate a manetta, cazzo E prendetelo, bitti, così, riuscite a risponare Vabbè, cennino Vabbè, io, io Cazzo Cazzo Ho spavato, ho preso tutte le sacchette di sabbio Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Non si riesce a spawnare Stiamo perdendo l'obiettivo Cesar Ah, lo spawn è un caffo No, via, spada rush, spada rush Su B, su B Tutta, tutta, tutta Tutta su B Tutta? Ok, vabbè Sì Vai, 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 andate in 4 su B, andate in 4 su B Per ora, ora, no, no, no Tengono da spawnare Ah, dietro, ragazzo, dietro E adesso vedo le rune spawnare Mosca, Mosca Alfa, di nuovo Bludi Se non si viene a rimanare Ma è rimanato 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 Oh no Devono muore, questo I dovevi sei cantato ci sono io raga e io gli sto un po impegnando ma sono inutile c'erano due comunque sono su charlie quindi massimo 3 la resistenza tu mi vedi? io no, partiamo da alfa spawn alfa lasciateci mosca sopra mosca con me mosca su di me anzi no scherzo 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 alfa alfa rimani troppo d'avevo va bene va bene prima di rinforzare c'è qualcuno? allora prima uno era qua è ancora lì guarda è in fondo in fondo dove c'è i manichini uno è da solo bravo è sempre lì ragazzi ragazzi alfa alfa scherzo 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 difendere alfa difendere alfa riuscite a prendere qua mosca parti vai 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 abbiamo conquistato l'obiettivo cesar ci siamo altezza campana alte nero ah c'ho un barco barco esterno sopra il treno non c'è nessuno eh sta andando sotto sotto charlie sta andando sotto assolutamente allerta perdiamo l'obiettivo cesar l'hai preso top bravo su digi prendo charlie prima se ne vanno eh si può fare si può fare top no 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 cazzo ho ucciso walli con la granata ci siamo presi l'obiettivo bruno ce n'è due dove si guardano verso di me c'è qualcosa altro qua se non si tolano no mo no ma hanno pushato tranquillo sta sopra uomo cerchiamo di tenere un attimo l'assalto sul bravo io ce n'ho due su c qui eh ah niente mi hanno fatto si aspetta mosca aspetta 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 se riesci sali sopra se riesci sali sopra è fatta se sali io ho preso l'altro bella bella e' uno shot a uno a basso si silenzio fallo chai adesso è un mio prendo sanno un davanti no è sotto è sotto sinistra dove due anzi un altro un altro sempre ش Che lì ti vedi? C'è quel piccolo glitch Sento Ragazzi noi stiamo tenendo la squadra a 3 qua Credo Dove sono io ce n'è uno Vabbè mi pick in testo Sì squadra a 3 da noi ragazzi Entro l'alfa Musca B Merda raga Merda Dai dai subito Da B alfa Musca anche te A prendere alfa Ragazzi zitti 14 ticket Piccate basta Sì Attenzione stiamo perdendo l'obiettivo Bruno Eh ragazzi lasciate stare Andate alfa Andate alfa Da D&B C'è vuole spazio da 2 A costo di cambiare squadra Cazzo dai forse se riesco a prendere Charlie forse c'è C'è una motira ingestibili Ben fatto No no perchè do Ah fizzera Vai 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 Ricambio Ricambio C'è C'è Attenere 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 15 ticket Dai Vabbas Vabbas nino Ho bisogno di una però qua No ragazzi sto per prendere pizza Sto per prendere pizza Cerchiamo allora di andare noi verso bravo raga Almeno provo a andarci io via Tattagnoia Io sto già andando Sono a destra Attento Sto perdendo raga Entrate in quella cazzo Sto facendo Lo slalom Eh vaffanculo Prendete B Prendete B Risponso Diento bravo Diento bravo Diento bravo Basta un secondo Basta un cazzo di ticket Ed è pareggiata Non scava 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 33 Aspetta non so se era 34 Comunque siamo sul pari Tocco di gente Preso un altro Non ci credo NONONONONONONONO Venciamolo Cassa medica, cassa medica di AFA Qua no infine è finita No no scherzo scherzo No ce l'abbiamo dietro Uno di vita Comunque io credo sia vinta Teniamola teniamola così 10 giorni quanti si aveva compito la bomba? 0 Ok perfetto Bravissimi Tengo io da spawn Tengo io Mi stanno arrivando su also ma per ora riesco a tenerli Vediamo la mano su bravo Che vuote in realtà Niente di spazio Scemo ogni volta Torniamo nino Attenzione abbiamo perso l'obiettivo Cesar Dove ti hanno ucciso uomo Dè sono alfa Suono Erano in due Bella Entrate entrate non gliela faccio Non le fate prendere Dov'è do'è parla 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 Ah sinistra Arctic Dato Squad a rush su B Suonati tutti su B Tanto su alfa li tengo Li tengo lontani Anzi uno magari mi spawna su alfa Tanto c'è anche il nostro Va bene va bene Ehm Ehm Mi ha fatto vol Ero in fin di video Di prepotenza Mamma mia GGGGG Di giungi Di giungi Di giungi La nostra seconda mappa Andiamo a vincere contro gli ZD Va bene GGGGG Di giungi Allora io non so se Ok Nino io farei entrare quasi quasi Jonas per underground e poi ti rischiafferei per l'ofoten che lui è più bravo da vicino La prossima è underground Te come si trovi dimmilo Meglio? GGGGGGGG Un GGGGG Ti farei fare l'ofoten Tra underground e l'ofoten Tra underground Meglio direi Meglio direi Eh Più di ladostano Eh infatti Lio è più bravo da vicino Jonas Ma si sente tutti o? Eh Jonas dove cazzo? Jonas Esci esci Nino esci No no Dico Nino Dico Nino GGGGGGG Non ti preoccupare Eh Sì sì ma siamo calmi Siamo calmi Siamo calmi Sì Ah ah Aspetta GGGGGGG Sì sì Entra Entra Si Nino Entra da GGGGGGGGG E fatti mettere la tag Fatti invitare la tag E fatti mettere la tag A 31TN Ah ma io non avevo l'audio Eh Dimentico adesso L'ho attivato Perché non volevo ragazzi Essere troppo violento E scurriglio Ah ok Io per la privacy Perché mi seguo Aspetta Password e walley Sì Stesso motivo Aspetta Nino Nino Ti invito nel suo gruppo Ti invito nel suo gruppo Per fare cosa? Per eh Eh Per fatti invitare Non so se ci sei Se ce l'hai già lotato Aspetta 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 No no esci solo dalla partita No vabbè Mettetevi l'amicizia Per favore E ritrovatevi Fuori dal gruppo Dai fuori fuori Vai Ciao Ciao ragazzi Ciao E' ora sta entrando Vero O ma gli facevo 99 eh Oh gli ho fatto 99 ad qui sotto eh Ma era E' arrivato Moscando Entra Giscardo 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 E' intanto Ciao Ciao Bello Oh cavolo Devastazione della nostra mappa Quindi Si diciamo E' ultimamente vendevamo pizza sì sì anzi devastazione però teoricamente era la mappa dovevamo decenti 23 30 ok 23 30 loro stanno prendendo 25 ticket meta per ogni secondo che si sono venuti prima io ve lo dico allora facciamo c'è sì però che si continuano a sponare allora io e moscato io e moscato alfa spannerà fate video sto facendo tutti noi ok per quanto c'è moscato che fa la live guarda 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 sono sponato uh si ragazzi qua si sono arrivati tutta l'ora prima saranno incazzatissimi non date dipendete tutti gli obiettivi che potete anche se c'è una penalità io ero bene occhio occhio mosca 2 bravo bravo allora il nemico ha colpito per primo dai dai bbb bb squadra nasce su c perché la squadra 6 è su alfa scusa la squadra nasce 2 è su alfa via 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 c c c c c c c c bravo top bravo a tenere a tenere ieri moscato ora ci sono ieri moscato male dove di essere s bella Forza madonna Sponate prego Non prego Ora controlliamo gli obiettivi Necessari per dominare questa battaglia Via 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 Verso B E ci pensiamo noi ad alfa Voi a tenere B esterno Aspetta A tenere B esterno E' in fondo Cazzo mi pusciano Ma è dietro 3.000 casse Sono incisi anche tra due E' una ravanata un po' comica Che è una ravanata a frammentazione I ragazzi assurdi No datti è Squadra rush 2 social Noi l'avevi? Vi avviso che abbiamo perso L'avevi sentito Sì No io niente C'è un altro su B Altri due su B Alfa è libera Mosca aiutali Uno in fondo Aiutali 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 Scato Bella Di cattiveria social Arrivati E' one shoot Bellissimo Via 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 Un altro Un altro C'ha uno di Dita No ha scappato C'ha uno di Dita però eh Acqua Grande C'è un altro Un altro Un altro Si raga Le teniamo Non avevo visto Grazie su B No Chi è questo che è andato via? C'era uno su Charlie Che si è passato accanto Ma Cazzo Inediti c'è davanti a me Metà strada Charlie è abbastanza libero Dovrebbe esserci solo uno in teoria su C Sì Si uno pede destra Niente 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 Scappa 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 Ma scappa gli altri Non riesco a scappare Destra eh? Si arriva da E' mi shotta Ma porco dio Unifo uno è andato per tutto Nonononono C'ha un lera Vabbè ormai se si alza tutti altri Tutti altri altri Dentro Vai 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 Anche Temo Anche io C'è c'è uno qua Vabbè ragazzi è uno Via Vabbè ragazzi è uno Vabbè ci piazzino cheat Si è qua eh No vabbè No vabbè No vabbè Cosa? Cosa? Bravo bravo Muscatto Abbiamo anche già fatto provo Perché quando abbiamo iniziato Calma 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 No vabbè Sono tre a sinistra Potrei Ragazzi Due di qua Due di qua Stanno salendo Due Ma non si può fare le kill fuori le cose raga Ehm Ehm Tecnicamente infatti questo Stanno salendo proprio dal nostro stand Rai devo rileggere un attimo il cosa Che No vabbè Che 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 Oh no.. Quei il dragone davanti tu ascome Non lo fa fa spawnare Il bug è da spawn ci stanno a fare maldi beh si ragazzi dai ce n'abbiamo due e basta qua su c ma è porca troia si sponkillano stiamo perdendo non deve accadere alfa 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 entrammo nel 3d lasciami stare sono tutti lì uomo o tutti lì da di città di città c'è farlo o charlie abbiamo charlie accanto sim basta ne ha realizzate una giusto per la gloria no mi ha preso sotto vabbè scusate abbiamo sofferto abbastanza cioè arrivavamo un primo a noi succede tecnicamente ah esatto non ci ha piazzati cioè non ho smoccarlo apposta perché ho detto tanto arrivavamo che i primi non c'è veramente vabbè comunque underground lo sapevamo che non era la mappa diciamo ideale per batterli ce la vediamo sullo fotene noi come si vabbè che lo fotene segnerebbe comunque dargli un po' di filo a taccia perché se no arrivano rilassati si all'inizio da te stavano andando bene cioè la top che era un fire stava 8-1 a un certo punto poi ci hanno chiusi e lì abbiamo avuto difficoltà magari anche quel lato forse era più difficile uscire dallo spawn si mi sa che è difficile in tutti i casi però vabbè no vabbè se dai ora per favore per favore sempre squadra rush su c e squadra safe su alpha ora le clip ce l'abbiamo dai è che dovrei esatto spawnati vai mi hanno detto che se volete si può rigiocare il round dopo ora guardiamo un attimo è stato ansicendo qui sta come non sapere come non sapere questo ok ok arriva 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 C'è arrivano. Ah, sono alfa con questo 3, 3 su alfa, stanno andando B. Guarda rush, guarda rush, fuori su B, su B. A tenere, a tenere esterno, a tenere esterno. A contenere infatti, a contenere. Mostra su me. Arrivano in due. No, che gioco di merda, ragazzi. Sì, ma io ero passando, da un secondo. Ma da. Non si è per sponso, non lo so. Vado B. B, 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 bravo. Eh, ma c'era già addosso. Eh, loro si fanno. Uno c'era fuori B, sotto B, no? Abbiamo perso l'obiettivo, Charlie. Muoiono. Ma cazzo, due, 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 due. C'è, due almeno. M'altro Mosca. Oh, cazzo. Bravo. Centi di coppia, mamma bella. Dal mio lato, raga. Uno l'ho preso. Entrati a manetta di fumo. Fumo CC. Fondo al corridoio. Dimmi quanto, Mosca. Quanto c'hai? Stai andando in gatto. Sta arrivando, preso la carabina. Aspetta, no. Niente, niente. Troppi. Sono tre su alfa, eh. Tre su alfa, quindi. Oh, che sfido, che sfido. Quanto, non ho quelli di merda. Anche cavolo, anche... Rush su B, rush su B. Tira l'adesso, coppia. Non scivolare. Sto provando al su alfa. No, 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 alfa, alfa, no. Mi ch'è zettissimi. B, 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 B. Uno in fondo, uno in fondo, raga. Sì, sì, qui, vedi. Sono troppo buffo atti su sta mappa. Dai, ragazzi. Però, no, topo, va a giocare. Un attimo, se no quando si riuscita, cazzo. Sì, sì, sì. Non voglio finire, dai, triple. Eh? Debole, ma non spariamo a uscire, a spiare sui triple. Non andoci? Non andoci. No, ma in realtà, Janice su... Ho già dimenticato che andavano giù. Qui sono troppo... Troppo piazzato. L'abbiamo più bene. L'ho visto pure. L'ho fatto i quattro, ragazzi. Lado alfa, eh? Ok. Secondo campo è lato lato sinistro. Bene, alfa, alfa. Bene, 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 alfa. Non siamo ancora a rimontare. Grazie. Mosca, io ce n'avevo solo uno qua su C. Uno di loro, se sono... Era qui, a sinistra. Grande, c'è un altro, Jonas. Penso sia sempre... Ecco lì, l'ho pingato. Quello è l'obiettivo! Conquistano! Vieni, vieni, anche te, vieni, anche te. Neutralizziamo. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Alfa, eh? Voglio il rush su alto, scuola, rush. Ok. Vai, 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 vai. L'esperienza di connessione, raga, è spuntoso. Ancora l'abbiamo. Due su B, due su B. I soccorsi stanno arrivando! Fumo, fumo e capo, fumo e capo, fumo e capo. Sì, da quest'altro lato. Bravo, Mosca, vai, 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 vai. Mi ha pushato. Gli arrivo io a dare la mano su Alpha. C'è un altro, c'è un altro. Uno. No, dai. Eh, scusami, l'ho visto. Cazzo. Ma muori! 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 Ti è riuscito a smanere su Alpha? Guardati, abbiamo perso lo tutti voi. Bella, di nuovo push nella luce. Noi stiamo in C. Anche l'altro, asterisimo. Come va tutto bene, ora aspetta gli altri. Sto rimaricando! Hai fatto uno? Sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Vado su B. Vieni anche te, vieni anche te Mosca. Non arriva, non arriva. No, la Ruta non l'avevo vista. Bella. Non quello che ci stava girando l'ho fatto. Con la Ruta non l'ho fatto, non l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Uh-huh. Vai, vai, lecchio. Siamo presi l'obiettivo Baker. Via, via, avanzare, avanzare, avanzare. Maledizione! Bomba lanciata! Non si sentono anche qua. Sono qui da me. Vai, in basso te. Treno, treno. Vedami, raga. Sono in piston. Presi, presi. Bella, bella, speed, bella, speed. Bravo, bravo, rush speed, rush speed. Aiuto! Bravo, è vuota, bravo, bravo. E poi C? Allora C, 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 C. Senti gente arrivare, ti farò d'acciare. A contenere, a contenere. Bella, top. C'è un altro? Sì. Sì, 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 sì. E' qua dentro. Bravo, Jonas, bravo. Scusa, ti ho cosato? No, tranquillo, tranquillo. Eh, ti ho bruciato. Se è entrato la manetta, li vado ad aiutare molto. Cazzo, ce ne ho tre davanti. Due, sono due. Bravissimi, bravissimi. Cambettiamola, eh, cambettiamola. Sì, da me. Fatte? Fatte, fatte, omero. Ah, fatte, fatte. Ok, cazzo. A contenere. Sponzo B e contenere. Porca miazza. Occhio, 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 vi arrivano, vi arrivano scale C, scale C, scale C. Ok. Sale, 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 scale C, scale C. Si è andata bene. Ora, attendi i rinforzi. Stiamo perdendo l'obiettivo Baker. Non vedo, non vedo questo contenimento, ragazzi. Dai. Dai, 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 dai. Ah. Oh. Oh, un po', un po' prima la ticca. Eh, mi ha guardato gli stanchi. Ah, l'obiettivo Baker, sono... Alfarga, alfarga, sui, sui. Allerta, abbiamo perso l'obiettivo A. 3, 2, 1. Sì, va. Scriviamo uno dietro. No, dietro, cazzo. Dietro. Ah, è andata a destra. No, questo non è. Adesso è girato così. Va bene. Non sento niente, per giro. Io non... Non ho fatto. Sì, sono. Qua la rush è tutta su Alpha, è tutta su Alpha. Vi aiutiamo anche noi? Anche te, Mosca? Anche te? Anche te. Sì, non ho fatto anche me. Sì, sì, bene. L'ho scendato su pacca, l'ho scendato su pacca. No, questo è un po' più. Tanto ormai, prima che... Prima di che nasco, finisce il tempo. Da qua trabiscare, eh? Sì, sono. Niente, rifacciamo un cambio, Giannasco. Che tanto Milo è forte da lontano, lui è bravo. Cioè, tengo lui che su Lofoten è un po' più tosto. Dalla distanza. Cerchiamo di avere il massimo delle cose. Bella Giannas, a dopo. A dopo. Ah, imitate Nino, per favore, se... È entrato. Ok, scusate. No, Nino, dico né in gioco. Siamo persi. 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 Si spavano subito, vero? No, aspetta, no. No, no, no. Ah, no. Ok, stiamo facendo un cambio. No, 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 no. Però allora sono già rinati in due. No, no, non importa, non importa. No, no, no. Se ne accorgono, se ne accorgono. stasera da sabbia di tifo stanno nata grande indietro e diciamo e 30 no io dico 24 00 vieni squadra con me top nino allora ascoltatemi ascoltatemi tutti su b io anche moscato da mid ok nino su b entrate e salite a quel cazzo di piano sopra ok dove c'è il lato lungo dell'edificio e tenete da lì dentro va bene noi pensiamo a liberare c e poi io vado su alfa 24 vero 24 00 vai vabbè sono tornati indietro comunque vabbè come faccia sta lì Quarti sei alfa, quarti sei alfa, non è prima Ci sarà uno in mid, dai tendo a home eh Quarti quarto, quarti alfa Sinistra, sinistra, hai scritto uno Guarda sull'arretta, guarda sull'arretta Non c'è più in basso No, c'è molta vita, cazzo Quarto Squad a rush, squad a rush Non su alfa, non su alfa, b, b, b Arriva l'internet top Come si è messo in scosso? Non so che abbiamo perso l'obiettivo Cesar Ora che sono arrivato a stucciare, se volete Uno in mid Questa qui, casa bianca Guardare Ce l'ho dietro di me, non so perché, scusami Niente, madonna Proprio dietro ce l'ho Sul mio cadavere Zero Sono in due Sei a sinistra? Ma è alfa Pensa ad alfa, pensa ad alfa Mosca, io vado su B Ragazzi, più veloce, qui sta su C Più veloce, eh Guarda, rush su B Non mi ha mai, ma è mai sciolto Ragazzi, B non vuol dire passare da me e andare in casa bianca Vuol dire andare su B Sono a montagna, buonga No, vi stuprano là Eh, siamo in mezzo a nulla C'è il mio cadavere, è entrato in casa Oh, comunque è davanti, 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 davanti No, c'è un altro Eh, non lo vedevo Quello non lo vedevo, scusami E io ero morto prima, per primo Andate, stiamo perdendo un obiettivo Anton E' sceso uno Salvo Non so dove Stavo distante Un altro Un altro Un altro Vabbè, no, devo No, non mi entri Non mi entri Non mi entri Non mi entri Non so perché Sono veramente laggando Sì, non mi entri Non mi entri Non mi entri Non mi entri Però è entrato in casa Il squadra è in casa Preso 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 Quanta rush su c A top E... Mosca con MESP B E' ferito 80 C'è un altro Prese C'era un altro Feritissimo 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 Che erano a top Antonino Sono l'ultimo Mosca mosca difesa sopra Di gerciano Punto Ol' obiettivo Anton Bravi ragazzi bravi C'è uno dietro il bomba Alza Sta qui Sotto sotto Sì Sta guardando lì È venuto un altro il bomba È venuto dietro C'è nessuno Ho capito Ho capito Ce li abbiamo accanto Dai 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 Bravi bravi A contenere moschiette Quar sotto dove sono? 95 Sono morto No ma c'era quell'altro Che lo vedeva da casa niente No dall'altra parte Ah no Squada rush 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 Trocata torretta Squada tre Torretta Squada torretta Silos Quindi Se fate veloce Se entrate dentro A manetta Piano di sopra Piano superiore Per favore Ok Mosca vai da solo su C Io vado Sneak Alpha Sornito alfa questo posto no non sentirlo per me era andato avanti stiamo perdendo l'obiettivo calma 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 quota rush su B per favore oh che cavolo ha fatto? c'era appena sparato tranquilli mi vede siamo sempre troppo nel limbo del foto no niente 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 entrate in cd prepotenza cd prepotenza con i fumi con i fumi vi copriamo noi all'esterno bravi 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 cd prepotenza cd prepotenza abbiamo sto triple c'è rimasto solo uno dietro solo uno dietro è un wallie è un wallie hittato da basta è Silos sempre Silos sempre Silos fumo fumo lato fumo mosca fallo qua è il fumo via via partiti ah si mosca vuol dire il fumo è rimasto in vista che non è nessuno perfetto andiamo tutti moly 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 fumo qua fumo qua ma già uno no moly 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 sono in due ma non manco Sì, è morto, mi sa che non riusciamo a pazzare No Perfetto, di spawn Qui, ragazzi Sanno tutti qua Sanno tutti da sinistra, ragazzi, lato a destra Lato a destra, lato a destra Lato a destra Scusa, Cerbo, siamo in cv No, per un attimo A dopo, a dopo, Cerbo Sì, sono volato Niente, ragazzi L'ha tirato un po' Prova a sneakare tutto basso Sono davanti Non muori Sono in acqua Eh, pensa a quello, pensa a quello sotto Ancetaci, state davanti Non so chi Mondi merda, Charlie Ragazzi Ragazzi, siamo troppo separati Troppo separati Allora, su tutti da, tutti destra C'è, tutti destra C'è, da sinistra E non fatti tre Vai, ho preso Vai, 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 vai Entramo, entramo, entramo Eh, ma ti trovo Non abbiamo tempo Cercare di Ce la facciamo, ce la facciamo Tiriamo giù dei ticket Entra, entra, entra Ce la facciamo Neutralizzare veloce Vieni, vieni, vieni Bella, dai Cazzo è qua, 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 qua Ma è un ehm, tu Eh, non abbiamo perso c Andate alfa Mi giusto nella panina No, eh, erano Sono tre su c Comunque, alfa, alfa Tieni, tieni, eh Musco Forse ce la fate neutralizzare, aspetta Sì, sì, sì Forse ce la fate è che io sono morto io c'ho due secondi anche due secondi niente fatto ora io ho fatto schifo io ho fatto schifo me ne scuso però cioè non prende fini esatto meno iniziative nino perché troppo separati eravate veramente c'era sempre uno uno verso montagna per la c e poi quando a un certo punto avevate cazzo fatto quella feed su charlie invece che entrare tutti insieme si andate tutti verso sinistra e dietro dietro i cosi lì cazzo era naturalizzata e ci riprendevamo la partita lì ragazzi avevate fatto la fida fate fuori due ma solo walli io avevo fatto solo walli eravate in tre anzi forse anche di più perché c'era anche moscato sta arrivando di mia cazzo dai no scusa eravamo si tre perché due ero morto io ero morto 3 contro 1 c'è lì andava pushato e fatto no che si tiene da fuori capito charlie solo questo per il resto questo lo spawn peggiore quando si è molto peggio dello spawn di alfa insomma 124 si vincerla no io la voglio vincere vinciamo questa cazzo di the side 125 ci basti dai siamo tutti e cinque ce la possiamo fare ci accontentiamo di vadovi non sono mai riuscire a tenere un triple 100 ticket mai nella nostra vita ma perchè noi siamo tutti gentili non ci piace umiliare gli avversari ma che triple double dai la villa più combattuta ci sentiamo dai sponso subito se facciamo tattica sconfatta bene un moscato che vi aiuta tutti su charlie tutti su charlie ma veloci deve essere una cosa non una roba guardate un po da sinistra moscato vi aiuta tanto moscato questa anche torretta a dargli noia arrivo anch'io eh ragazzi mi dato un secondo arrivo anch'io preoccupare top non ti preoccupare sponere i compagni c'è una silos artica a destra sto tornando indietro stanno tutti in grande sto sto girando male arrivo e di l'uomo niente rega bella mi è piaciuta al fabi al fabi al fabi al fabi al fabi bravo ora devi avere mai 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 si sono morto 85 no no soldati stiamo fermando anche voi l'hittato marissimo e arrivo anch'io vedi 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 grande bella ragazzi è trattata in charlie appena è neutralizzata b appena è neutralizzata b via è spavato uno mi hanno fatto mi hanno fatto mi hanno fatto il fatto di vedere la città nata città presa 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 mai avvicinato fa via 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 di i dritto per dritto ma faccio 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 sono due davanti un altro un altro sempre dove quello Entrate, entrate, entrate! Casa Bianca, 1, Mosca-Persa ci viene a dare noia su Alpha Non si riesce a spawnare, si riesce a spawnare Spawnchina, infatti Mosca-Charlie, Mosca-Charlie Ottimo lavoro, vediamo BK Ok, ah, ah, ah Fuori, fuori, è entrato dalla finestra Due Chiudi il riso Alpha, eh Due su, due su Brava Ok Nonononono, viva, 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 viva Viva, 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 viva Sbagliata Uno dentro, bravo Però non muoio, no Cioè, non gli faccio niente, non gli faccio danno Vieni Un altro top Un altro top Un troppo Aspetta, aspetta, top Cioè, a destra, a destra, Mosca, a destra A destra, a destra Mi hai fatto prendere un corpo, uomo Sti triple Tutti, tutti, lato montagna Lato montagna Lato montagna Lato montagna Lato montagna Veloce, veloce Un fumo su Alpha Uno, uno Non quaranta nello stesso punto Uno Vai Vai Sì, questo è lo stesso Charlie, appuntate a Charlie Appuntate a Charlie Non c'è niente Bella C'è un altro Dai, vai Passate, passate Fumo sui piedi Fumo sui piedi Nino Eh, tutti dati Ci sono l'importante Charlie, ragazzi Charlie Bravo, un musco Bravo, un musco Oh, ce l'hai anche uno al camion Eh, tre Eh, bravo Sì, troppi Due fila Eh, scusa Mi è andata giù la prima mesa No, esatto No, esatto Abbiamo fatti No, non so 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 Cazzo, ce n'ho uno accanto Ragazzi Charlie 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 Lasciate stare B Charlie Se siete riusciti, ma non si c'è Ok, allora entrate Alpha Siamo noi Vai, perfetto Subito B, eh Subito B, eh Da Alpha, eh Charlie, siamo noi Ecco, già qua È già qua Obiettivo Banker è andato perduto Ma Eh, niente, Mosca Eh Mi è clasciato Eh, mi è clasciato Mi è clasciato Eh, lo so, eh, l'ho visto Siamo in quattro, eh, raga Grazie, Nino Andiamo da, da top Dov'è top? Dov'è? Dov'è? Subì, subì, subì No, sei separati, ragazzi Sei tutti separati Preso, preso Ah, eh Vai Ahia, sì, io lo sento No, un secondo bastava Bravi, bravi, bravi Non la perdete, non la perdete Eh, no, erano in tre Erano in tre Aspetta Ah Io ci sono su Charlie Prima è che non ho vita Non ho cure Non cazzo Mi sento solo Ti arrivano da me d'uomo Eh, raga, troppi No, così no No, intanto troppo C'era da te ce ne è uno vicino Entrato in casa rossa Gialla Occhio, eh, che Charlie non è proprio free, eh Tre secondi Minciamo sto side, dai, per favore Un po' di impegno Eh, ma... Non me ne frega se siamo in quattro Minciamolo Eh, due Due insieme hanno sparato perci Siete in tre, dai Ce la fate Diceno due su... Bravo, dai Vi è rimasto solo uno su C Quindi non vi fate inculare Dai Dove, dove, dove Dove, dove Adesso Vai, dai È vinta Non potete avere altri su C Se neutralizzate soprattutto Oh, oh, cazzo Sennò davvero Sono già spawnati Eh, allora... Scusa Mosca, a che punto siamo? Un altro, un altro Un di push Da incaricamento Eh, 75 Porco cane L'avevamo presa Charlie Temi di sì, che noi ci possiamo rinascere Sì Ok Eh, pienissima però Dio mio quanti su Charlie Dai, cazza mia V, V, Mosca B Mi potete B, 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 anche voi Anche voi B, 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 va bene Va bene, va bene Non so, non so Non è che... Preso, preso Ah, ma dove stanno in G? Cura, cura, cura Vai, vai Squadra Rush su C Squadra Rush su C Vai, vai, vai Via, 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 via Via, via Vi faccio il giro, vi faccio il giro Lasciate dritto per dritto A tenere, top A tenere, a tenere, aspetta con calma Con calma, con calma Noi ho preso uno su Alpha Con la Rush su B Con la Rush su B Con la Rush su B Ok, Alpha is ours Eh, ma è in 12.000 Charlie, raga, Charlie, Charlie, Charlie Ma il problema è che io sono sparato sulla bandiera e ce ne avevo due davanti C'è nemmeno C'è nemmeno C'è nemmeno C'è nemmeno Abbiamo preso un obiettivo equal Io sono su C, eh Anche noi Vediamo su Bravo Noi adesso Vai, via Sto bravo Sto bravo Mosca arriva a darti mano Eh, preso A chiudere A chiudere A chiudere Vai su B Vai su B Mosca si riesce a sparare su Alpha Dammi solo spawn, per favore Anzi no Rimango Dai Noia e rimango su C Spada Rush su Alpha Ah, ok Dai Charlie Charlie E' andato per una Sì e noi siamo Tutto in cucina d'Als Ce n'è uno davanti troppo Andate 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 Ma qua ti puoi pesciare questo Bravi Bravi Ho fatto la razzata di uosso Mosca, Mosca Charlie Mosca Charlie Mosca Charlie Ti arrivo Siamo presi l'obiettivo eibolo Gravi ragazzi Bravi No c'è uno spawn Alpha Aspetta, aspetta che gli spawno dietro Qua dove? Qua dove? Qua un altro Come ho fatto a spawner il suo Alpha? Scusate Questo ci spara davvero Controlliamo tutti gli obiettivi Lo stavano Sì, sto dentro L'obiettivo eibolo è ormai perduto Gravi su B, bravi su B su Charlie, su Charlie su Charlie 60 di vita ragazzo non è possibile sta roba cioè come fanno essere tutti qua non ho sparato ragazzi ragazzi no no non voglio vedere in trenco la cacchia di casa via subì entrate dentro lì davanti ma cazzo facevo a vederti oh, tutto in testa, oh ma c'è qui ti aspetta, non so, eh non ti posso animare mi vede fa vedermi vabbè, questa muscia così non so dov'è Mosca, è ancora lì il bastardo io gli vado a Charlie, gli vado a Charlie per perdere anche alfa poi vediamo dove ci butta su alfa, ce l'ha buttato, è per alfa alfa, alfa, vuoi rifugire alfa non mi fa spawnare troppo da occhio, occhio, davanti ora è la sopra bravo bravo bravo, sia perchè sei stato bravo, bravo sia perchè andiamo su bravo ah, niente ha subito uno eh, boiler era morto, mi hanno dato un colpo per favore per favore fatemi vedere per favore fatemi vedere ma siamo giocato veramente male veramente male 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 non va bene così eh però nino te sei troppo troppo qui troppo di testa sua troppo cioè prima quando Caschi gli si è detto andare su B si è passati uno uno sopra casa degli altri uno da mid chissà dove è andato l'altro l'altro era era finito in modo cioè male 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 copiciamo tutta la mappa eh sì tutta la mappa però è che questi si sparano un chilometro e ti sciottano dici se vogliamo se vogliamo se vogliamo giocare under round di nuovo no no tanto hanno vinto tanto erano prendere di gente poi and e basta peccato per Giscard d'accordo vai a 2 adesso e una i ma c